sono registrati ma soprattutto vi attendo qua vi attendo per tutti i vostri le vostre idee regalo i vostri acquisti di natale voglio vedere la pista piena come sabato scorso e come domenica scorsa ma soprattutto voglio vedere il centro veramente pieno con neanche un posto dove poter girare vi aspetto quindi puntuali un ciao da ricky buona giornata a tutti ci vediamo puntuali domani alle ore 11 se la musica è da sempre il tuo mondo e ti basta un microfono per sentirti libero se sei nato con l'ipod e per te la radio non si sintonizza ma si clicca se per te è una professione o magari è solo un gioco e non importa cosa ma hai sempre qualcosa da raccontare se questa volta vuoi far sentire la tua voce allora speaker è la radio che cercavi dove lo show se sei tu 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 se sei tu